Nuovo video e nuova strategia di advertising, oggi parliamo di Instagram, delle Instagram ads e dei DM di Instagram per cui mettiti comodo perché sarà un video dal mio punto di vista veramente interessante sarà d'apertura per un format che voglio portare verticale sulle Instagram ads magari condividendoti anche un po' di retroscena, anzi fammelo sapere con un commento o con un like se ti va e addentriamoci subito perché il tema è veramente scottante e come sempre, piccolo disclaimer, piccola premessa, chiamiamolo come vogliamo ciò che trovi qui su questo canale YouTube non è roba inventata ma è farina nel mio sacco sono i test che io faccio, sono strategie che studio, che creo veramente spendo tantissimo tempo a studiare, a testare, inventare strategie e mi piace condividere qui con te su questo canale tutto quello che funziona vedo che sempre di più mi seguite quindi grazie di cuore e appunto se magari tu sei su questo video e ancora non ti sei iscritto guarda ti richiedo un secondo, io fossi in te mi iscriverei soprattutto se argomenti di advertising, media buying, business online e marketing ti piacciono allora dai andiamo dritti al punto, parliamo di Instagram Ads, campagne pubblicitarie su Instagram siamo in suite meta, ok, sapete che meta include sia Facebook che Instagram andiamo dalla parte di Instagram era da un po' che non giravo dei video su Instagram ma è una piattaforma che mi piace molto sicuramente è una piattaforma che ha visto molta amplificazione di utilizzo e anche in termini di campagne pubblicitarie è stata e viene utilizzata anche adesso moltissimo per cui voglio parlarti di alcune tips o meglio di una strategia legata ai DM che ho testato proprio in questi mesi e che mi hanno dato ottimi 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 risultati allora partiamo da una premessa che è doverosissima per capire il funzionamento di questa strategia fin quando ne guarderemo Instagram semplicemente come un social probabilmente non ci tireremo fuori nulla soprattutto se sei un libro professionista, un imprenditore, hai un infoprodotto, un e-commerce o magari sei un media buyer e aiuti queste realtà, ok? quindi stacchiamoci un attimo da eventuali content creator chi utilizza Instagram per passare il tempo influencer ma stiamo veramente verticali come se avessimo un faro su questa categoria ecco Instagram non è più un social network e anzi deve essere visto lo dico già da un po' in realtà come un funnel di nutrimento ora tu sai che sicuramente se segui questo canale l'ho detto ridetto e probabilmente ormai lo sai anche tu a memoria l'utente è sempre più distratto, l'utente è diffidente soprattutto in Italia va veloce eccetera eccetera e Instagram ad oggi è uno dei social più utilizzati da tutti ok? sei d'accordo? perfetto ecco scendendo nel dettaglio se noi andiamo a costruire con il nostro Instagram attraverso la bio attraverso il link in bio, attraverso le stories in evidenza le stories nonché i contenuti che noi andiamo a pubblicare dei contenuti che possano ridurre quella che è la tempistica di incubazione ovvero quel tempo che passa, che trascorre da quando un utente diventa nostro cliente quindi passa da semplice utente a nostro cliente beh questo veramente diventa un funnel di nutrimento io stesso in questi mesi, in questi anni in realtà ho testato tanto sul mio Instagram cambiando spesso anche le cose proprio perché mi piace testare ma devo dirti una cosa importantissima da quando io ho iniziato a essere molto attivo con le stories in funzione di condividere quella che è la mia vita, la mia realtà ciò che faccio con il mio target pubblicare ad esempio dei contenuti fatti bene in termini di valore ancora prima di qualità poi ovvio anche la qualità molti miei contenuti sono girati con questa fotocamera sono estratti dai miei video quindi la qualità è eccelsa ok ma ti parlo proprio di valore beh devo dirti che chi arriva sul mio profilo e ne arrivano veramente tante di persone ogni mese iniziano a fidarsi, iniziano a conoscermi, iniziano a capire che cosa faccio e poi una buona fetta di queste prenotano le consulenze e un'altra fetta diventa miei clienti attraverso i corsi, attraverso le coaching attraverso nell'agency dove seguiamo i business di questi appunto a quel punto clienti ok a parte il gioco di parole punto a punto eccetera eccetera ora ho testato tanto come strategie di Instagram ads chi mi segue soprattutto nei miei percorsi ne ha già tante recentemente ovvero negli ultimi un mese e mezzo due mesi ho ripreso in mano una strategia che già utilizzavo quasi due anni fa ovvero gli Instagram DM i messaggi diretti su Instagram è una strategia che in passato ho utilizzato tanto l'avevo modificata perché l'avevo scoperta andando a un mastermind in America l'ho modificata per quello che è il nostro target italiano piccola premessa studiare solo dall'America non è sufficiente è vero sicuramente sei un grande passo in avanti però poi devi testare e devi riadattare gran parte delle cose in un mercato soprattutto quello italiano se ti rivolge al mercato italiano che ha giustamente i suoi punti di forza come le sue criticità ecco proprio avevo scoperto questa strategia l'ho riadattata per renderla succulenta efficace nel mercato italiano poi l'avevo accantonata perché mi sono concentrato su altre cose non mi convertiva più così bene e poi l'ho ripresa in mano perché effettivamente accorgendomi che facendo un buon lavoro su Instagram ottenevo dei risultati diversi ho iniziato a dire ok ripreschiamo questa strategia rinforziamola aggiorniamola e vediamo che cosa salta fuori strategia verticale nei messaggi su Instagram la primissima cosa da considerare è che tutti gli utenti ormai sanno utilizzare Instagram quindi rispetto magari a qualche anno fa non abbiamo più questa barriera legata al social bensì oggi tutti lo utilizzano tutti sanno come funziona tutti sanno mandare un messaggio ora il primo aspetto su cui dobbiamo concentrarci quando andiamo a fare una campagna pubblicitaria su Instagram è a mio avviso avere un bel trigger ovvero avere un bel punto di svolta qualcosa che innesca effettivamente una reazione nel nostro utente questo perché? perché l'intelligenza artificiale è sempre più all'interno degli algoritmi anche in ambito meta per cui anche in ambito Instagram e una delle cose più importanti una delle cose più rilevanti è proprio quello di avere un trigger un elemento che fa schioccare nella mente dell'utente questa informazione e dice ok voglio saperne di più questo è un IDM importantissimo perché se da un lato Instagram è sicuramente un social mai utilizzato da tutti i messaggi su Instagram vengono visti ancora come qualcosa di intimo certo non siamo ai livelli di Whatsapp dove chiaramente diamo il nostro numero eccetera eccetera però c'è ancora questa resistenza di dire ok se io vado a scrivere a una persona è vero entro in contatto ma anche loro sanno chi sono io tolti i fantastici hater che non mancano mai e che si creano innumerevoli profili finti ok? parliamo di cose reali quindi la primissima cosa è che se vogliamo che le persone ci scrivano in DM dobbiamo dargli un buon motivo per farlo questo motivo non può essere della serie vuoi saperne di più scrivimi in DM perché la persona non sa neanche che cosa scrivere oggettivamente o magari non sa come porsi e qui entra in gioco un ostacolo molto forte il fatto che se io non do un indirizzo molto chiaro alla persona la persona deve pensarci e quindi allunghiamo il tempo che gli serve per fare quell'azione quindi creiamo delle resistenze che portano la persona poi a non fare quella semplice azione che sulla carta è semplicissima alla fine scrivere un DM a una persona per cui mettiamo un trigger diamo un buon motivo perché una persona dovrebbe scriverti in DM non per una richiesta di informazioni ma magari per saperne di più quindi potresti dare una risorsa gratuita un video un'informazione un pdf una guida un audio ricordati sempre di bilanciare lo sforzo che fa la persona con qualcosa che la ripaga ok? sempre di più le persone stanno attente a queste cose se tu invece fai una ad per DM molto semplice nella quale dici scrivimi in privato ripeto crei una barriera la persona non sa perché dovrebbe farlo pensa di non ottenere nulla o di finire in spam o magari di essere anche fastidiosa o semplicemente non sa che cosa scrivere e non lo fa quindi primo aspetto diamo sempre un trigger deve esserci un motivo per cui la persona ci deve scrivere in DM ok? una cosa che ho testato funziona molto bene una risorsa che gli diamo in cambio seconda cosa la cosa da tenere assolutamente a mente è il fatto di dare un input semplice alla persona ok? ritorniamo un attimo indietro quando ti ho detto se chiediamo alla persona di scriverci in DM facciamo in modo che debba farlo in modo molto semplice la cosa più veloce è una parola una parola che non supere le 5 lettere ho testato tantissimo anche questo numeri, parole, insieme di parole, frasi eccetera eccetera utilizzando anche dei bot come ManyChat quindi veramente dove dovevano solo cliccare ma la risposta più semplice di tutte è fargli scrivere una parola che non supere le 5 lettere meglio ancora se è una parola targetizzante ecco io in passato magari facevo scrivere info per dei test che facevo info però ti attira tanti curiosi quindi se tu vuoi alzare un po' quella che è la barriera d'ingresso per non avere proprio gente diciamo di qualità molto lontana da cui non puoi ricavarsi nulla metti una parola che sia del tuo settore ad esempio nel mio caso potrebbe essere MB per indicare Media Buying che profila moltissimo Ads per esempio per indicare campagne pubblicitarie quindi capisci delle parole che il mio target conosce ovviamente non ti ho fatto un esempio a caso Ads la conoscono tutti MB come abbreviazione Media Buying è già più profilante quindi ti dovrai chiedere sempre chi vuoi raggiungere ok che qualità è la persona che vuoi raggiungere che profondità di informazione ha eccetera 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 quindi questo è importantissimo oltretutto è importante poi avere un flow che segue questo primo messaggio qui hai due opzioni o lo fai manualmente tu o un setter l'obiettivo poi è sempre quello di portare la persona in consulenza difficilmente a parte casi rari succede ma sono casi rari chiuderai una persona in DM portarla in consulenza oppure ci agganci un bot magari ne parleremo anche in dei video dedicati anzi fammelo sapere per fare in modo che poi il flow vada avanti e la persona vada effettivamente in consulenza con un automatismo cioè quindi questa parte di profilazione venga fatta poi effettivamente con tutto un automatismo voglio darti un ultimo tips poi ripeto magari scenderemo con dei video più verticali su queste strategie eccetera eccetera anche se quello che già ti ho dato in questo video ti permette già di effettivamente partire con la tua prima inserzione avere già dei punti chiave su cui muoverti è quello di tenere in considerazioni due cose la prima tieni sempre aggiornato quello che è il profilo soprattutto se vuoi attivare questa strategia non sto parlando in termini generali di advertising sto parlando in modo specifico della strategia DM pubblica dei contenuti io per esempio pubblico in questo momento che sto registrando un reel al giorno questo mi permette di dare sempre contenuto chi entra nel mio profilo vede una valanga di contenuti ben curati ti invito anche ad andarlo a vedere se non mi segui seguimi cercami Ale Lorenzi su Instagram mi trovi subito e questa cosa di andare a pubblicare dei reel di qualità permette alle persone di avere sempre più avvicinamento nei miei confronti quindi consumano effettivamente una valanga una valanga valanga di contenuti i reel in questo sono molto importanti perché sono video permettono alle persone di conoscerci di capire come ci muoviamo chi siamo eccetera eccetera quindi contenuti molto interessanti che permettono di creare subito rapport e poi l'altro aspetto guarda i commenti che ti lasciano soprattutto magari pubblica anche delle recensioni dei lavori che hai fatto o se segui dei clienti invitali a condividere recensioni testimonianze feedback interagire con la community rispondere ai commenti dobbiamo iniziare a vedere Instagram soprattutto se vogliamo attivare questa strategia di M letteralmente come un funnel quindi anche quando ci lasciano un commento interagiamo con la nostra community facciamogli capire che quello che ci stanno dicendo per noi è importante ok ci lasciano ad esempio un feedback positivo rispondiamo ringraziamo condividiamolo nelle stories magari potrebbe essere un tassello importante nel tuo flow una volta che una persona ti iscrive ecco le Instagram ads di M acquisiscono una potenza ancora più importante quando il profilo Instagram è ben curato ed è aggiornato e viene soprattutto interpretato da parte tua o da parte del tuo cliente eccetera eccetera se sei un media buyer quindi da parte del tuo cliente come un funnel di acquisizione questo letteralmente ti porta dei contatti più di qualità che ti iscrivono profilati persone che ti conoscono persone che sanno che cosa fai o se non lo sanno comunque attraverso i contenuti che vai a pubblicare iniziano a imparare meglio chi sei che cosa fai e poi ti iscriveranno molto interessate ovviamente mi raccomando tieni a mente tutto quello che ti ho detto fammi sapere se vuoi altri video di questo argomento arriveranno sicuramente anche dei tutorial e delle cose più succulenti quindi ti aspetto nuovamente qui sul canale ripeto se ancora non l'hai fatto iscriviti da Ale Lorenzo è tutto ciao